Ho trovato giustamente una squadra ferita perché dopo una sconfitta in casa in quel modo, giustamente i ragazzi stavano un po' giù, però hanno la voglia di riscattarci, hanno lavorato bene e vediamo insomma, stiamo cercando di dare tutte le possibilità di poter tirarsi fuori da questa situazione che insomma non è carina. La Messina oltre che per Biagioni per tanti altri rappresenta una piazza che parla da sola, non c'è bisogno che io faccia programmi di pubblicità, stiamo parlando di una città importante, di uno stadio importante, di una diffuseria che è grandissima, perciò voglio dire tutti quanti dovremmo capire in che piazza stiamo. Ripeto, stiamo valutando tanto di partire da oggi e vedere le reazioni se ci sono della squadra perché comunque quando si cambia allenatore è un fallimento per tutti, dispiace a tutti e alla società cambiare, i giocatori stessi sono dispiaciuti, però a volte purtroppo nel calcio chi paga sono sempre gli allenatori, però adesso dobbiamo tirare fuori un po' una reazione perlomeno di far vedere che abbiamo quel sangue che tutti ci chiedono.